Stefano Lepre, buongiorno e buon mercoledì 7 aprile 2021. Buongiorno Andrea Dasti, la fetta maggiore dei nostri ascoltatori, ben sa che il mercoledì, e quindi anche questo mercoledì 7 aprile 2021, ormai da più di un semestre a questa parte è giorno di pillola. Va detto però che tra i benefici, di cui la pausa di due settimane che ci siamo presi si è fatta foriera, vi è un incremento del numero dei followers di Edway The Podcast. E quindi ci auguriamo che questi followers abbiano già fatto una buffata delle 50 più puntate registrate sino ad oggi. Sinceramente siamo sicuri che anche solo in seguito ad un piccolo assaggio avrete chiaro che in termini di pillola non può mai mancare il quesito introduttivo a noi tanto caro. Ovvero socio? Caro Stefano, quale pillola ci somministrerai quest'oggi? Ebbene, prima di rispondere alla tua domanda permettimi un'altra breve divagazione. Un secondo elemento cardine di questo format, di importanza decisamente più preponderante rispetto alla formuletta d'apertura, è ciò, o meglio colui, che sta dall'altra parte del mixer. Quella Andrea Dasti al quale ormai si può riconoscere a tutti gli effetti il ruolo iconico di maestro nonché somministratore seriale di pillole. Da guru a muso ispiratore, tu lo sai che il passo è breve. Ed è proprio così perché nella scelta del contenuto odierno mi sono fatto illuminare dalle parole da te scandite un paio di giorni fa. Mi riferisco ovviamente alla puntatona di lunedì 5 aprile nella quale ci hai presentato ed in qualche modo hai celebrato la figura del barone pedagogista de Coubertin. Le considerazioni che hai fatto hanno suscitato in me una serie di riflessioni sintetizzabili in un interrogativo che potrebbe suonare più o meno così. Qual è, dove sta oggi concretamente il valore educativo dello sport? O ancora, cosa ci insegna oggi lo sport? Ecco, ricordiamo amico caro che il tema dello sport è molto di attualità dato che ieri 6 aprile 2021 si è celebrata la giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e per la pace in concomitanza appunto per ricordare la prima edizione delle Olimpiadi Moderne avvenute ad Atene nel 1896. Hai ragione, hai fatto bene a sottolinearlo e mi sento io di aggiungere che nemmeno nei programmi di previsione e metodo scandiscono così spesso e così frequentemente le date. Detto questo, non è certo semplice dare una risposta chiara e puntuale alla domanda di poco fa. E siamo ben consapevoli tanto del fatto che depositari della verità assoluta in giro non ce ne sono, quanto dell'ampiezza della tematica in cui ci stiamo addentrando. Tuttavia il mio, o meglio il nostro consiglio concreto è quello di investire una dozzina di minuti del vostro tempo per dare un'occhiata all'intervento dal titolo Play Your Future, ovvero gioca il tuo futuro, che Beniamino Sabio ha tenuto al TED Talks svoltosi a Torino circa un annetto fa. Ecco, oggi scelgo di bypassare sia le note a me tanto care biografiche relative a Beniamino Sabio, che i riferimenti alle sue gesta professionali, per le quali certo non basterebbero questi pochi minuti. Il mio intento non è nemmeno quello ovviamente di spoilerare il contenuto del video, che potrete riprodurre direttamente dal sito di TED Talks oppure reprendolo agilmente su YouTube. Semplicemente vorrei sottolineare un paio d'aspetti che ho trovato particolarmente significativi e anche che hanno fornito gli elementi validi per poi suggerirlo a voi quest'oggi. Beh, anzitutto il monologo è parecchio attuale, direi quasi perfettamente aderente alle nostre quotidianità, impregnate dal rapporto spesso conflittuale tra ossessiva pianificazione e ineludibile improvvisazione. Parla proprio delle nostre vite immerse come sono in un mondo complesso, aggettivo inteso da Sabio, nel suo significato originario, ovvero intrecciato insieme, concetto di molteplicità e unità al tempo stesso. Fate queste sparate, passerei ad una seconda sottolineatura, correndo in questo caso il rischio di essere un po' banale, però mi piace porre l'accento sul fatto che il discorso in questione non è, a mio avviso, di quelli che tolgono il fiato o fanno accelerare il battito cardiaco. Tuttavia può essere di grande ispirazione per la linearità espositiva, per la capacità con cui l'oratore passa dall'analisi di una situazione problematica alla proposta di un atteggiamento potenzialmente positivo con il quale affrontarlo. Un atteggiamento che non è garanzia di per sé di successo, ma che lo stesso Beniamino sta implementando in ambito privato e nell'ambito lavorativo. Un atteggiamento che gli sta dando parecchi frutti, a giudicare dai risultati ottenuti dalle società molteplici, che sono diverse e di diversa natura, di cui lui fa parte. E tra l'altro la stragrande maggioranza delle quali l'ha fondata lui stesso. Per chiudere, l'atteggiamento di cui Beniamino Savio si fa promotore è frutto di una trasposizione dal mondo sportivo. Insomma, prendi in là da un paio di fattori di successo che caratterizzano lo sport, rendendolo unico nella sua capacità di trasmettere valori ed emozioni e, per dirla in pedagogichese, nella sua potenzialità educativa. Una puntata, caro Stefano, dunque di domande più che di risposte, nella speranza che l'ascolto di questo TED Talks possa portare beneficio alle nostre quotidianità. Vi auguriamo una buona seconda parte della settimana, ringraziando te, socio, per questo approfondimento. Se volete, oltre ad ascoltare chiaramente il TED Talks, andate a recuperarvi anche le puntate di Edway the Podcast che vi siete persi o che avete lasciato indietro. Grazie Stefano, ci ritroviamo venerdì con un nuovo pedagogista. Grazie a te e buona giornata a tutti quanti.